Vicenda Mucchi, dopo l'esternazione del Premier, cosa cambia? Renzi si è già dimenticato di com'è il territorio toscano, già si vede si è allontanato definitivamente dalla Toscana da Firenze, ormai c'è gli occhi solo a Roma e forse chissà dove, perché invece la Mucchi è una risorsa importante per il territorio, una risorsa importante dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'imprenditoriale e poi soprattutto non è in perdita, una è le poche partecipate che invece non hanno un costo per il pubblico, se dobbiamo, e noi siamo favorevoli a iniziare a smantellare le partecipate, iniziamo da quelle che hanno un costo per il pubblico, questa invece offre un ottimo servizio e non costa, quindi è una cosa efficiente da tutelare, incoraggiare e non da smantellare. Mi dispiace ma Renzi ha completamente sbagliato e dimostra di essere fuori dalla sensibilità reale del territorio fiorentino e toscano. Però già il sindaco di Firenze ha detto che sì, allora ci penseremo. Vabbè poraccio che deve fare insomma, nel senso da questo punto di vista Nardella quando arriva Renzi e gli dice una cosa diversa da quella che Nardella pensa, si adegua, da buon soldatino d'altra parte se non c'era Renzi Nardella non faceva certamente il sindaco di Firenze, quindi lo comprendiamo, solidarietà a Nardella perché deve dire qualcosa di diverso da quello che pensa, però ecco noi invece possiamo dire e faremo anche delle manifestazioni insieme a Nicola Nascosti di Forza Italia, nel territorio fiorentino insieme anche a Paolo Marcheschi, noi che conosciamo e abbiamo a cuore gli allevatori e il territorio anche toscano e fiorentino difenderemo questa realtà di eccellenza. Quali possono essere le alternative concrete a Canarolo? Scusate, non c'è bisogno di alternative, nel senso non è che è un'azienda come quando si parlava, no? L'Alitalia è in crisi di fallimento, dobbiamo, deve intervenire qualcuno, può benissimo andare avanti così com'è perché ha i bilanci in attivo, ha serenità, stabilità economica, non ci deve essere un'alternativa, ci deve essere che si può valorizzare e incoraggiare e agevolare un'azienda che pur avendo stranamente una forte presenza pubblica riesce a funzionare. Allora, perché la dobbiamo trovare un'alternativa? Iniziamo alle terme, iniziamo da Fidi, per esempio. Come mai Renzi non chiede di smantellare Fidi come pubblico? No, chiediamocelo, visto che comunque ha pagato i debiti e i contratti della sua azienda di famiglia. Quindi prima delle partecipate in attivo e funzionanti e che sono anche trasparenti, iniziamo da altre partecipate.